Va bene, direi di iniziare, ringrazio tutti voi che avete accolto questo invito per questo incontro, ringrazio neosindaco ingegner dottor Giuseppe Niccoli che ci ha, posso dirlo, onorato dalla sua presenza, insomma si è stato rieletto soltanto qualche giorno fa. Iniziamo questo incontro che è molto importante perché, come avete visto anche dai manifesti, i temi da trattare sono due temi all'ordine del giorno a noi, il primo tema è quello del castello, il secondo tema è quello della costruenda nuova galleria a Caponori. Ciò detto lascio la parola alla professoressa Claudia Rotta, prego professoressa. Grazie, buonasera a tutti, mi sentite? Vino là in fondo, sì? Di tutto desidero scusarmi in titolo personale ma anche da parte dei miei amici per avere rinviato la volta scorsa e all'ultimo momento la nostra riunione. C'erano stati dei segnali negativi e poi mancava un permesso scritto che ritenevamo fosse necessario avere per fare quella riunione in un momento che era ancora un periodo elettorale. Abbiamo quindi giudicato più opportuno rinviare a una data meno calda. Vedete che però appena è stato possibile, primo sabato possibile, siamo ritornati qui per riprendere questo, per aprire questo discorso. La serata si chiama Nolli nel cuore, era il nome che il professor Paggi aveva proposto nell'agosto 2012 per creare un'associazione composta da nolesi e da villeggianti storici che avrebbero dovuto riunirsi verificamente per parlare dei problemi del paese, mettendo ciascuno la propria opinione e il proprio dissenso. Poi questa associazione non è nata e io spero però che questa sera sia il primo di tanti incontri che si faranno in seguito, perché ritengo che sia assolutamente necessaria la partecipazione di tutti, per quelli che sono i beni di tutti. Voi vedete, noi abbiamo voluto mettere l'articolo 9 della Costituzione che è anche ripreso in questo libretto di Tommaso Montanari, forse l'avete sentito in televisione, è dato da presentare questo libro sia da Fabio Fazio che da Concita De Gregorio, è professore di storia dell'arte, giornalista e scrittore. In questo libro elenca alcuni episodi veramente gravi, spiacevoli che succedono in Italia dove lo Stato vende palazzi, vende dei tesori, anzi li svende, e poi accanto a queste ci sono invece degli episodi di cui si parla molto poco ma che fanno sperare bene. C'è magari un solo cittadino, un gruppo di cittadini che si oppone a trasformare un bene pubblico in un bene privato, che si oppone al sfregio e a quello che sta succedendo per esempio alla regia di Caserta, dove lo sfregio però continua in perterrito. In una serata in un talk show era un perso anche Filippo D'Averio, che tutti conoscete attraverso la televisione. Avevano mostrato le immagini da sgomento di Pompei. Si vedeva quella città distrutta dal fango, dal tempo, ma soprattutto dal fango e dall'incuria, e tutto intorno una frenesia di bancarelle, di banchetti, di baretti, di vendita di souvenir. E lui proprio, D'Averio è una persona molto pacata, ma quella volta era proprio un po' esploroso, dice ma Pompei non appartiene ai Pompeiani, non appartiene neanche agli italiani, appartiene a tutta l'umanità, perché abbiamo tutti le stesse radici. Quindi per questa è la ragione per cui noi, che siamo foresti se vogliamo, abbiamo preso con molta passione questo tema del castello, perché lo sentiamo nostro come lo devono sentire proprio tutti i cittadini. Parliamo adesso direttamente del castello, di com'era. Io ho cercato di andare indietro con gli anni, negli anni 40 naturalmente c'era la guerra e nessuno si poteva occupare del castello, ma dagli anni 50 in poi, sono stata, ahimè sono abbastanza vecchia per essere testimonia diretta delle cose, lo posso ricordare sempre abbandonato, come se fosse un simbolo arroccato lassù, senza vita e senza importanza. Si fanno ogni anno i cortei storici, si parla della Repubblica di Noli, però il castello rimane là. Ricordo che rimane là, dimenticato, con un simbolo lontano. Ricordo che da bambina si partiva, io come la ciuma di amichetti, si andava su di corso, lungo quella strada che era stata tracciata dai signori Corradi che hanno costruito la villa che è lassù che c'è ancora adesso, quella con le finestre e il Rebo Celesti. Questa strada fatta di mattoni messi di taglio e di gradini di alzate di cemento, era sempre tenuta in modo perfetto, adesso è quasi scomparsa, la vedrete in un filmato. Dopo, finita questa bella strada, cioè arrivata a Villa Corradi, c'era neanche un sentiero, c'era qualche passo un po' difficile, poi si accedeva a un sentiero e si poteva girare tutto il castello e là noi eravamo felici perché avevamo sempre l'impressione di essere arrivati in isola deserta che ci apparteneva. Da adulta quest'isola deserta mi era comunque già molto cara, affascinante con quel colore della terra che era il colore delle pietre antiche delle mura e poi da madre ci ho portato il mio bambino. Era sempre aperto, aperto di giorno e aperto di sera quando ci si riuniva con gli amici intorno alla chitarra a cantare. Questo dall'anni 40 agli anni 90, abbandono totale. Nel 92, il sindaco, la signora Carla Vorani-Pois, si sono fatti i miei lavori, c'è un lavoro di restauro conservativo ben fatto, modesto, forse era anche modesta la cifra di cui allora si disponeva, modesto ma corretto. Tutto faceva presagire che avendo avuto questo restauro, quindi le mura più pericolanti erano state messe in sicurezza e il castello sarebbe stato ancora aperto per altri 50 anni. Io ricordo quando salivo prima di questi lavori da bambina, mia nonna mi diceva evita di andare su quando c'è tanto vento e mio nonno di rincalzo diceva ma guarda soprattutto da che parte tira il vento, ogni tanto veniva giù qualche pietra. Dopo il 92 non avrebbe dovuto esserci questo pericolo, però è inspiegabile perché il castello sia stato chiuso. Io ho chiesto ai miei amici villeggianti storici se qualcuno si ricordava quando, chi e perché aveva chiuso il castello ma nessuno ha saputo dirvelo. Certamente non era per ragioni di agibilità perché se qualche maestra portava le proprie scolaresche a fare le lezioni di storia mediovale fra le mura del castello era perché non c'era pericolo, nessun insegnante porta i propri ragazzi dove c'è pericolo, ne avrebbe permesso. Adesso come sapete siamo stati, almeno io ho saputo di questi lavori che sono cominciati ormai mesi fa, da questa petizione che è comparsa su Change.org lanciata da un gruppo di studiosi il cui indirizzo di fatti è istruzione.it. si grida allo streggio perché si è spaccata la base di una torre millenaria e si è fatto uno squarcio che viene definito inquietante. Ci si chiede perché e che cosa può nascondere se la parte visibile è quella, chissà cosa succede dentro. E quindi si è andati a vedere sul sito del comune dove era stato postato nel luglio del 2013 un documento che è fuori che se volete ritirarlo c'è, il computer lo può leggere lì, in cui si parlava del castello finalmente che è aperto, finalmente restituito ai cittadini, questo che è il simbolo della città, eccetera. E si descriveva un pochettino quello che si era iniziato a fare. Si diceva che l'ascensore era stata, si diceva non era scritto, ma in giro era corsa a voce che l'ascensore era stato praticamente imposto dall'Unione Europea per darci i propri fondi. questa notizia non è vera. Interrogato il proposito l'architetto Fabio Piaggio dei programmi comunitari della regione Ligure ha detto che no, questa partecipazione dell'Unione Europea ai lavori non era assolutamente vincolata a problemi di disabilità. D'altra parte, come tratterà molto meglio di me l'architetto Volterrani, c'erano molti altri sistemi per aiutare le persone meno agili ad entrare e a partecipare. In seguito si descriveva la formazione di un palco, di una platea all'interno della piazza del maschio e, cosa che orripilante, la sistemazione dei servizi igienici pubblici proprio nella piazza del maschio. Sarebbe come a dire di mettere il gabinetto nella sala del trono, una cosa del genere, spostandoci da un'epoca all'altra. Questo grido che viene fuori dopo, noi lo vogliamo sempre aperto, noi vogliamo riavere il nostro castello, viene senz'altro da qualche persona che come noi ha vissuto il castello per tutta la vita, da bambina, da adulta, da madre e magari anche da nonna. Io ritengo che c'è un rischio nel fatto che ci sia un ascensore, che ci sia un'apertura a orari determinati, perché c'è l'esempio di Castelgovone, a finale. Lo stesso percorso, rinasce Castelgovone, si parla di un ascensore panoramico, che anche quello di Nolli panoramico non è, si parla di sovvenzioni della UE, e là per quasi 3 milioni di euro. Poi, nella primavera del 2013, cioè esattamente un anno fa, grandi manifestazioni, visite organizzate, su prenotazione, per andare a visitare il castello. Io mi sono informata di cosa è il castello adesso. Mi hanno detto che l'ascensore non è più funzionante e che il castello non si può più visitare per inagibilità. Ma la cosa che mi fa più paura è ancora un'altra. Ci sono certi lavori, soprattutto fuori dalla piazza del maschio, dove le fasce, le fasce liguri, classiche che tutti i liguri conoscono, perché le coltivano, ed è stato l'unico modo di coltivare una terra così difficile, così faticosa, sono state trasformate e i sentieri sono diventati come specie di scalinate rinascimentali, quasi come se ci volesse preparare a quello che in effetti è un progetto già presentato alla regione Liguria, che per adesso è stato accantonato, ma non respinto, il progetto di un albergo diffuso che vada a ristrutturare le casazze e questo francamente significa che noi perdiamo il castello, cioè i cittadini perdono il castello a favore di un piccolo pubblico che potrà ruinne come cliente di questa albergo. E noi questo francamente volevamo metterlo a disposizione di tutti, che tutti lo sapessero e che tutti manifestassero le proprie opzioni. Ho chiesto al signor Croce di proiettare qualche fotografia, poche, perché siamo in tanti questa sera. Questa è il castello dall'alto. Voi vedete che la torre del maschio si erge come un nume protettore sulla cima della collina. Poi stende le proprie ali giù, giù, fino all'abitato come delle braccia che volessero proteggerlo e in effetti era stato costruito a questo scopo. E vedete anche che in questo spazio c'è l'erba, perché un castello, una fortezza non aveva certamente dei pagamenti, era terra battuta e così l'abbiamo visto noi, maltrattato, pieno di sterpi, di rovedi, di erbaccio e tutto quello che volete, non doveva essere così, però doveva rimanere così, cioè rimanere con lo spirito del restauro conservativo che è quello che dovrebbe essere la regola per tutti i monumenti archeologici. Possiamo passare alla seconda? eccoci, ecco qui le fasce di cui vi parlavo, qui i violini, no? Ancora? Scusate. Ecco, vedete che erano le fasce che al di fuori dalle mura sono state un po' corrotte e contaminate dalla strada, ma all'interno erano assolutamente irregolari, adesso non sono più così. Possiamo andare avanti, queste sono fotografie preziosissime che ha scattato molti anni orsoni su una croce che ci ha messo gentilmente a disposizione e vedete il clima che si respirava, proprio il clima di una campagna, di una cosa naturale, di una cosa che noi cittadini soprattutto cercavamo quando venivamo al mare e c'era parecchia gente e soprattutto c'erano moltissimi stranieri. Io avevo la fortuna di abitare ai piedi di questo castello, ai piedi della collina del castello e incrociavo, e incrocio ancora adesso, molte persone che mi chiedono come si fa ad andare al castello. Da piccolo, da giovane ero fiera di accompagnarli fino in su e di spiegare che cos'era, com'era, come fosse un bene tutto mio. Adesso ho dovuto sempre dire no, è chiuso, perché non lo so. E mi guardavano con un'aria quasi di riprovazione, stupiti, ma anche un po' scontenti. Ma questo che abita qua lo sai, che non sa. Allora possiamo andare avanti, qui siamo, ecco. Questo vedete proprio, lo vedete meglio da vicino, vedete com'era lo spazio del piazzo del maschio. Era prima dell'intervento della signora Bologna Poiss, vedete che non c'è ancora nessuna barriera e noi passavamo lì, ma non siamo mai capiti, forse è andata molto bene. E poi ancora l'ultima, ecco, questa era, vedete com'era abbandonato, però era un sito naturale, così com'era nato. Io ho finito e vi lascio all'amica Walterrani, che vi farà, vi illustrerà il filmato e le fotografie, scattate, infatti è girato il film e scattate le foto, il 22 febbraio di quest'anno, quindi già parecchio tempo fa, quindi i lavori sono andati avanti, ma vi dà un'idea di questo stato. E desidero ringraziare pubblicamente i giornalisti Mario Molinari e Marco Travaglio del Fatto Quotidiano per averci fatto dono di queste immagini. Grazie. 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 Grazie.